Buonasera, buonasera a tutti i relatori più presenti, buonasera a chi ci segue su YouTube. Io sono Gianfranco Tamburelli, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali e stasera avremo modo di confrontarci su un tema di grande attualità, che è quello della cooperazione internazionale multilaterale in materia di corruzione, di prevenzione, contrasto alla corruzione. È un'iniziativa che è nata in molto veramente spontaneo, quasi casuale, nel senso da conversazioni con diversi dei relatori più presenti, in particolare con il consigliere Giovanni Tattaglia Polcini, sugli esiti, il tema era quello degli esiti del G20-2021 a presidenza italiana, che come sapete si è concluso in novembre, e sugli esiti in particolare concernenti diciamo allo sviluppo sostenibile, l'energia, l'ambiente, che erano tematiche per me di rafforo, diciamo, costante. Poi, diciamo, è convenuto, è emerso che tra i risultati più rilevanti, invece di questo G20, c'erano quelli conseguiti proprio con riguardo a questo settore, cioè del contrasto, della prevenzione, della corruzione. E questo è anche per merito, in gran parte per merito, della diplomazia italiana, che è molto attiva su questo fronte da anni in ambito Nazioni Unite, in ambito G7, in ambito G20. Quindi io credo davvero che quella di stasera sia un'ottima opportunità per valutare delle novità e degli orientamenti, della cooperazione internazionale nel settore, e darei, considerato il livello, la qualità, la consistenza degli interventi previsti, darei immediatamente la parola al collega amico Fabio Marcelli, internazionalista di livello, personalità poliedrica, grande esperienza, e anche lui, devo dire, lo ringrazio, ha contribuito in quel periodo a definire e poi, voglio dire, ad avviare la realizzazione di questo web. Caro Fabio, quindi a te aprire i lavori. Due parole giusto per dire, insomma, che questo tema della corruzione è un tema molto importante nelle relazioni internazionali, è stato individuato come si tratta di un ostacolo al raggiungimento di alcuni obiettivi di fondo che è la comunità internazionale, che come sapete è una creatura abbastanza, diciamo così, come dire, a volte fantasmatica, ma insomma qualche linea di tendenza sia pure vaga alla enuncia e sicuramente la lotta alla corruzione rientra in questa linea di tendenza appunto perché è ritenuta di ostacolo al raggiungimento di obiettivi altrettanto generali ma importanti come la rule of law, lo sviluppo sostenibile ed altri. In sintesi possiamo dire che la corruzione si concretizza nello sviamento del perseguimento dell'interesse pubblico per soddisfare scopi di natura esclusivamente privata. Questa può essere una prima definizione molto tentativa di questo fenomeno. per combattere il quale la comunità internazionale ha provato a dotarsi di alcuni strumenti, fondamentale la corruzione approvata nel 2003, entrata in regola nel 2005 nell'ambito delle Nazioni Unite appunto sulla lotta allo corruzione. Altre importanti convenzioni sono state realizzate, ad esempio, nell'ambito del Consiglio d'Europa, con una convenzione che raggruppa attualmente 48 stati e parti, fra cui l'Italia, e c'è un'attività importante anche da parte dell'Unione Europea. Finisco con una nota dolente, infatti è di ieri la notizia è apparsa sui giornali, secondo la quale la Commissione Europea sarebbe pronta ad aprire una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva dell'Unione Europea su whistleblower blowing, ritenuta appunto che costituisca questa direttiva un passaggio fondamentale per l'integrale della legge del 2017, rafforzare uno strumento chiave nella lotta alla corruzione. whistleblowing che appunto, come sappiamo, significa le rivelazioni che giungono all'interno stesso delle organizzazioni coinvolte nella commissione di determinati illeciti, in questo caso illeciti di corruzione, ma anche illeciti probabilmente di altro tipo. Il fatto che l'Italia non abbia ricevuto questa direttiva è un fatto indubbiamente negativo, abbiamo augurato che nel momento in cui il PNRR, sul quale siamo impegnati molto anche come istituto, ed altri programmi di carattere più che altro europeo, giustamente pongono l'accento sull'esigenza di trasparenza, di combattere la corruzione, eccetera, bisogna augurarsi che questa direttiva sia tradotta in realtà, anche per evitare la possibilità di infrazione che sarebbe per iniziare nei confronti dell'Italia. Altre note di pessimismo derivano ovviamente dal contesto generale che stiamo vivendo, sociale ed economico, a ormai due anni dall'inizio della pandemia Covid, che ha significato, tra le altre cose, come ben sappiamo, c'è ormai il famoso rapporto di Oxfam che a riguardo appunto contiene dati estremamente inquietanti, assistiamo a un aggravamento notevole delle diseguaglianze, sia su scala nazionale nei vari paesi, sia su scala internazionale. Ed è ovvio che questo aggravamento delle diseguaglianze costituisca a sua volta un incentivo alla corruzione, così come incentivi alla corruzione possono derivare da determinate politiche di privatizzazione dei servizi pubblici e più in generale dall'aumento della potenza di fuoco, per così dire, del capitale finanziario. Tutti appunto fenomeni di carattere generale che necessitano in quanto tale una risposta generale, ma anche articolata, al cui interno ovviamente rientra anche la dovuta attenzione nei confronti dei fenomeni di corruzione. voglio ricordare anche che Gianfranco si è dedicato al tema, anche in modo operativo, appunto sul terreno, per così dire, in un paese che oggi è sotto i riflettori per motivi appunto attinenti alla politica internazionale, ai rischi di guerra che ricominciano a porsi, che è l'Ucraina, Franco ha parlato di questo, magari poi ci dirà qualcosa lui stesso, ha preso parte a un programma di lotta all'ocorruzione appunto in Ucraina, che mi pare appunto un fatto importante, perché come giuristi internazionali abbiamo sempre cercato di abbinare l'impegno scientifico dalla riflessione di carattere generale anche con l'iniziativa concreta, specialmente su un tema di questa portata. Ecco, io mi fermerei qui appunto ottemperando all'imperativo di brevità enunciato dal nostro conduttore e quindi vi auguro un buon lavoro. Grazie Fabio, molto interessante, hai già messo diversi temi, devo dire, hai dato diversi spunti per eventuali, come dire, osservazioni. Noi cercheremo di seguire l'ordine, poi spero, credo, ci sarà spazio, almeno 15-20 minuti per eventuale, diciamo, dialogo tra di noi o osservazioni, domande da parte di chi ci sta seguendo. So che anche su YouTube ci sono una ventina di persone che stanno seguendo, probabilmente sono persone molto qualificate, quindi se dovessero fare delle osservazioni saremmo ben lieti nei limiti, insomma, di tempo che abbiamo di dar loro lo spazio. Io non riprendo naturalmente gli spunti che ha dato Fabio perché, insomma, non c'è modo, diciamo, non è il momento e vorrei solo, diciamo, per chi segue e magari, diciamo, ha un'ottica meno dentro, come dire, una visione giuridica meno ampia per la maggior parte di noi e che con Fabio si è già delineato un po' il quadro principale di riferimento, o si sta già delineando il quadro principale di riferimento, quindi a livello internazionale la Convenzione, sicuramente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, la Convenzione di Merida, la Convenzione OX sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, che è del 97, e ci sono due convenzioni importanti del Consiglio d'Europa, una civile sulla corruzione, entrambe del 1999, civile e penale, volendo proprio limitarci all'essenziale per chi è. Sul piano del diritto comunitario il discorso sarebbe più lungo, volendo menzionare solo alcuni atti, la Convenzione per la tutela degli interessi finanziari, dell'UE, che è del 95, la Convenzione sulla lotta alla corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari UE e stati membri, che è del 97, e c'è una comunicazione importante della Commissione sulla politica globale UE contro la corruzione, che è del 2003, poi relazione sempre della Commissione del 2011, un rapporto UE sull'anticorruzione del 2014, che sono atti importanti, diciamo, di riferimento, e la direttiva che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che è una direttiva del 2019. Questo solo per facilitare chi ascolta, nel senso che penso che questi sono atti, sia il quadro giuridico internazionale, che questi atti, diciamo, che riguardano il quadro comunitario, che magari verranno menzionati o a cui faranno riferimenti i vari interventi, ma così apprestiamo, diciamo, una specie di quadro di riferimento ampio. Darei quindi ora la parola, siamo veramente rieti e onorati della presenza qui del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi, e vorrei dire sempre per, diciamo, chi è meno, chi è meno, uso o conosce meno, diciamo, le strutture e le nostre stesse istituzioni, che la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha una funzione diversa dalle procure presso gli uffici territoriali, interviene, diciamo, nei giudizi civili e penali sull'applicazione delle norme di diritto nell'interesse della legge. Questa è una semplificazione, ma ritenevo opportuna, e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione vigila, tra l'altro, tra le varie funzioni, sulla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo costituita presso l'ufficio. Per quel che riguarda Giovanni Salvi, credo che bene sia noto, diciamo, il ricco background, è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato, tra l'altro, procuratore a Catania e anche a Roma, prima di essere procuratore generale presso la Corte di Cassazione e, visto che siamo anche in ambito accademico, è autore di diversi scritti proprio su corruzione, criminalità organizzata, processo penale, ordinamento giudiziario. e ora darei la parola appunto a Giovanni Salvi. Grazie, grazie Gianfranco anche per questa bella presentazione. Io, come da programma, non farò un vero e proprio intervento, però un saluto corposo, nel senso che voglio fare riferimento al lavoro di questi mesi che il nostro convegno oggi, il nostro incontro, capita al fagiolo, non solo per la ricorrenza dei trent'anni di Mani Puglite, ma soprattutto perché in questi mesi sono venuti al pettine nodi che si sapeva che sarebbero arrivati, cioè il rapporto tra l'emergenza e la corruzione, che è un tema molto, molto interessante. Avete letto tutti di queste vicende davvero singolari che indicano l'intreccio che vietra la illegalità quotidiana e le grosse organizzazioni, non solo criminali nel senso di mafiose, ma anche semplicemente dalla capacità di organizzarsi intorno alla possibilità di profitti. questo tema è molto interessante e ci porta subito, tu hai fatto un elenco degli strumenti internazionali e dei loro risultati che è veramente impressionante. D'altra parte la Convenzione di Merda è anche quella che ha il maggior numero di adesioni, quasi totale, però nello stesso tempo anche noi in Italia, che pure siamo forse un modello dal punto di vista degli strumenti normativi complessi con i quali abbiamo affrontato il tema della corruzione, continuiamo ad avere un grosso problema di illegalità diffuso. Ora si tratta di vedere, anche se si tratti o meno di corruzione, o di altre forme che noi assimiliamo alla corruzione, a volte debitamente, perché fanno parte di ciò che le stesse convenzioni internazionali riportano alla corruzione, a volte indebitamente, perché si tratta di illegalità pubblica o privata patrimoniale che in qualche maniera riportiamo alla corruzione. Qui molto interessante è avere qui con noi oggi Giovanni Tartaglia Polcini, che è un esperto non solo di questa materia, ma soprattutto di quello che è un tema che l'Italia ha posto, vedo proprio l'Italia ha posto all'attenzione della comunità internazionale, cioè gli strumenti di misura dell'effettiva corruzione e del contrasto alla corruzione. Tema fondamentale per capirci, perché per decidere bisogna conoscere cosa scontata, prendiamo tutti quello che ha detto Inaudi, eccetera, poi in realtà molto poco praticata, come se voi avete interesse a leggere la relazione che la Procura Generale ha fatto per l'anno giudiziario, potrete vedere come noi riteniamo che i dati che sono stati forniti, che riguardano in particolare alcuni aspetti fondamentali del sistema giudiziario che hanno orientato il decisore sono radicalmente errati. Abbiamo avuto anche conferma successiva di questo errore. Già nel 2020 ponemmo il problema di un sistema di conoscenza del dato che fosse adeguato, che fosse tale da consentire poi le scelte decisionali. Ecco, Tartaglia Polcini già da tempo, da anni, ha posto questo tema che ora è diventato tema centrale della comunità internazionale e quindi io, tra l'altro, finalmente mi potrà spiegare, e spero di essere ancora con voi perché, come Gianfranco sa, io dovrò andare via. Vi potrà finalmente spiegare da dove viene il paradosso del trocadero o di trocadero. Quindi, finalmente saprò non che cosa significhi che l'ho capito e che forse riporta in qualche maniera anche a paradossi logici più antichi come quello del bucchio di riso o di sabbia dove il confine tra il mucchio e le molte particelle. Non è possibile individuarlo. Tu sottrai un chicco di riso e ad un certo punto il mucchio diventa individualità con le più individualità o viceversa. Questo ci porta a questioni che riguardano però anche quello di cui si occupa Giovanni Tartaglia Polcini e cioè come facciamo ad avere un linguaggio condiviso della comunità internazionale per misurare i livelli di corruzione. Noi abbiamo un apparato sulla carta straordinario che andiamo dai livelli di audit dell'autorità nazionale anticorruzione fino a strumenti penali e processuali molto forti strumenti di prevenzione molto forti audit previsti per le imprese molto forti responsabilità dell'impresa che è diversa da quest'altro profilo e mi dispiace che non ci sia per uno suo grave lutto personale non ci sia Pasquale Finiani perché aveva preparato una relazione proprio sulla differenza tra questi aspetti e quindi avete individuato un tema che è fondamentale e a mio parere però ritornando a quello che vi dicevo all'inizio la moltiplicazione realizzazione degli strumenti internazionali in questo tema non ha poi portato effettivamente ad una capacità di reazione io credo che ciò dipenda molto dal fatto che la corruzione nei suoi diversi aspetti in questo caso io inserisco anche l'illegalità diffusa che è il presupposto su cui poi si fonda anche i profili corruttivi più complessi quelli che riguardano per esempio gli appalti pubblici quelli che riguardano le interferenze nei processi decisionali pubblici a scopo patrimoniale ecco l'illegalità diffusa è quello che ha portato a questo dato che veramente è sconcertante noi avevamo per la verità come procura generale segnalato che viene a questo rischio già nel nel 2021 avevamo segnalato per esempio un problema che è rilevante dalla nel 2020 per la verità della diversa formulazione del 362 bis rispetto al 362 terra sono anche questi piccoli particolari che poi incidono sulla capacità di reazione del sistema ma è sconvolgente veramente sconvolgente apprendere che la sola procura di Roma ha sequestrato un miliardo di euro di 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 crediti per operazioni inesistenti che sono stati scontati presso diversi operatori e poi sono finiti a cassa depositi e prestiti e posti italiani a larghe a parte ecco io credo che ci debba fare molto riflettere perché uno strumento che non ha considerato il livello di illegalità diffusa che c'è nel nostro paese ha consentito proprio con un pregiudizio rispetto al controllo ha consentito questo sfruttamento di ci creare un sacco di problemi io mi avvio rapidamente a concludere però con una piccola precisazione che è importante rispetto alla precisazione che ha fatto che ha la descrizione dei compiti della procura generale che ha fatto Gianfranco Tamburelli sì noi abbiamo un compito di vigilanza e non di intervento diretto rappresentiamo il pubblico ministero davanti alla Corte ma in realtà dal 2006 quindi già da 15 anni sono stati attribuiti alla procura generale dei compiti che la procura generale ha sempre più interpretato in maniera attiva che sono compiti che vanno verso lo stimolo alla uniformità nell'esercizio dell'azione penale è una cosa molto importante per esempio in periodo di pandemia visto che oggi si parla anche del rapporto tra la pandemia e la corruzione in genere tra l'emergenza e la corruzione ci ha consentito di fare un lavoro preparatorio sfortunatamente non tutto integralmente ripreso negli strumenti normativi che ha visto coinvolta l'accademia i principali attori dell'economia dalla Banca d'Italia all'ABI alle Camere di Commercio che parte dal codice della crisi dell'impresa ma che in realtà si è andata a inserire per l'emergenza proprio su questo perché noi avevamo individuato già allora la necessità di una griglia non di un controllo preventivo come chiedeva la Procura Nazionale Antimafia che a mio bariere è errato anche quell'approccio noi non possiamo l'autorità giudiziale non può svolgere attività preventiva di controllo con finalità anticorruzione ma noi dobbiamo capire che la strutturazione della griglia di accesso per esempio al credito agevolato è fondamentale per consentire il controllo successivo e per consentire anche l'intervento che non consenta le attività predatorie che si sono verificate quindi la Procura Generale ha acquistato in questi anni un ruolo sempre più importante e se siete interessati a questo potete andare sul sito della Procura Generale che è un sito attivo basta fare Procura Generale Cassazione andate su in alto dove c'è scritto orientamento alle Procure orientamenti alle Procure della Repubblica e trovate 7-8 provvedimenti che vanno dalla questione relativa al mutamento dei criteri di responsabilità nel settore sanitario derivante dalla pandemia fino appunto alla crisi di impresa e a questi aspetti passando attraverso tante altre interessanti questioni quindi questo è utile anche per capire e a mio parere si inserisce bene in questo discorso che noi abbiamo bisogno in un sistema qual è il nostro di decentralizzazione del potere giudiziario che è un potere diffuso anche nel pubblico ministero abbiamo però bisogno di momenti di centralizzazione di controllo non solo di controllo ma anche di direzione centralizzata del pubblico ministero che rispetti l'autonomia dei singoli magistrati e degli uffici ma sia in grado di impostare una politica criminale o meglio di adempiere correttamente alla politica criminale dandovi piena attuazione vi ringrazio le questioni quindi le questioni imposte da questo intervento sono ancora sono 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 diverse alcune che si connettono appunto al ruolo della procura generale stessa le questioni di grande attualità e io vorrei riprendere velocemente solo solo una la questione delle effettività poi delle convenzioni internazionali che è un problema diciamo che non è non è solo sicuramente in questo settore ma insomma in tanti altri settori e in questo mi veniva da pensare così ma è giusto per aggiungere qualche cosa di qualche notazione personale che secondo me mi avviso avvicchisce sempre anni fa ero in Moldavia Cisinau per motivi diversi ho ottenuto due o tre diciamo lecture università ministero ambiente ma anche ministero della giustizia devo dire e a un certo punto venne invitato non so perché perché non era proprio nell'oggetto venne invitato c'era la presentazione presso il centro nazionale anticorruzione che era stato istituito circa 150 funzionari 150 dipendenti presso il centro istituito a Cisinau veniva costituito anche diciamo una specie di gruppo giovanile collegato al centro di movimento giovanile anticorruzione collegato al centro corruzione che a sua volta era stato finanziato dall'Unione Europea istituito nel quadro degli accordi internazionali naturalmente beh naturalmente non naturalmente accompagnandomi lì dei professori e dei colleghi esperti un po' sorridevano perché non avevano avuto ancora grandi riscontri diciamo in termini di efficacia della lotta della prevenzione della corruzione dall'esistenza ormai da anni di questo centro ben finanziato con 150 funzionari che stava attivando stava lanciando una nuova iniziativa questo per dire insomma è un problema che indubbiamente c'è e c'è anche poi quando si va insomma anche quando si apprestano a livello nazionale delle istituzioni o dei sistemi che dovrebbero essere in attuazione o per il perseguimento di finalità diciamo stabilita negli accordi o nelle normative internazionali ora prima di dare la parola alla prima relatrice della serata Nicoletta Parisi io non posso non dare per un momento la parola a Giovanni Tattaglia Paruccini perché sul paradosso di Trocadero bisogna chiarirsi le idee subito perché altrimenti penso lo disturberà anche nell'intervento successivo questo paradosso di Trocadero è citato in un diciamo documento con un abstract che lui ci ha fatto gentilmente insomma ci ha fatto il piacere di avere prima del webinar e ha suscitato questa nostra curiosità perché poi il paradosso di Trocadero in realtà facendo qualche ricerca su internet si capisce che è originato dalla penna dello stesso Giovanni Tattaglia Puccini o mi sbaglio e comunque insomma visto che ci siamo grazie grazie professore Tamburrelli grazie per questo invito e vado dritto al punto e poi riservo i saluti a tutti all'intervento previsto in scaletta successivamente nasce il paradosso si chiama innanzitutto di Trocadero per rispondere alla curiosità del procuratore generale che saluta e ringrazio semplicemente per una questione diciamo di localizzazione geografica perché l'Ocse ha la sua sede nel sedicesimo distretto a Parigi e per raggiungere la quale io facevo lunghe passeggiate e proprio dove c'è questa splendida piazza che dà sulla Torre Eiffel e dopo un incontro diciamo abbastanza duro nei contenuti avuto con alcuni rappresentanti di Transparency International che erano intervenuti nella sessione del Working Group on Bribery dell'Ocse che si occupa appunto della lotta alla corruzione pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali ebbe in modo di riflettere su alcune affermazioni fatte in quella sede che riguardavano il nostro paese e diciamo erano i tempi del cosiddetto rating particolarmente penalizzante che ci poneva come fanalino di coda in Europa sul piano della cosiddetta corruzione percepita e ci fu uno scambio abbastanza vivace nel corso del Working Group on Bribery perché io chiesi contezza siccome avevamo avuto un rating simile in alcuni paesi africani e diciamo a mio avviso un po' penalizzante quale fosse il metodo di riferimento utilizzato da quell'organizzazione internazionale insomma ci soffermammo sul tema della percezione e quindi mi domandai quale potesse essere la ragione anche a fronte di quello che era avvenuto nel nostro paese non tanto dal 1992 quanto dal 2012 dalla legge Severino dall'istituzione dell'ANAC dal rafforzamento dei poteri dell'ANAC da tutta un'altra serie di indicatori oggettivi sulla serietà nel contrasto al fenomeno corruttivo che poi come giustamente ha notato e ha notato il procuratore generale viene considerato un modello globale tant'è vero che molti tendono a questi modelli oggi molti altri paesi che sono in altra graduatoria sempre secondo Transparency International abbiamo riflettuto sulle possibili ragioni di una simile conclusione e abbiamo presto concluso che probabilmente contrastare la corruzione in modo tenace e senza alcun tipo di atteggiamento volto alla tutela dell'interesse nazionale e quindi slatentizzare la corruzione la criminalità i fenomeni criminali cosa che nel nostro paese avviene ed è indubitabile comunque incide sulla percezione della corruzione per questo è un paradosso perché sintetizzando più la combatti più la rendi percepibile chiaramente in un paese come il nostro nel quale la magistratura ha una indipendenza addirittura costituzionale fino anche nella componente inquirente e requiremo abbiamo la obbligatorietà dell'azione penale che è pure un informante notevole e significativo in termini di formazione della percezione sui fenomeni e poi abbiamo anche una consistente libertà riconosciuta e praticata dai mezzi di informazione sui fatti di giustizia tutti questi formanti danno luogo a dei risultati che forse dovrebbero essere considerati soprattutto quando si raccolgono dati solo percettivi e appunto per questo tornando in albergo dopo questa piccola diciamo dialettica che poi è usuale nei gruppi di lavoro multilaterali soprattutto quando si ha un dialogo con la società civile teorizzai questo che abbiamo definito paradosso di drogadero che poi è stato l'inizio di una serie di attività multilaterali devo dire che poi all'epoca eravamo suri oggi è diventato un po' un light motive del multilateralismo giuridico perché lo hanno riconosciuto fondato come punto di partenza per un ripensamento degli indici sia le Nazioni Unite sia il gruppo di stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa la stessa Unione Europea il G7 e il G20 però per il G20 il discorso è molto più approfondito e lo riprenderemo più avanti mi fermo qui sul paradosso di drogadero ringrazio il proprietario generale e Gianfranco per questa possibilità ci tornerò poi dopo perché è un momento molto più come posso dire complesso e potrebbe da solo probabilmente riempire una relazione grazie grazie Giovanni ora abbiamo idee più chiare perché sarebbe stato difficile diciamo arrivarci così insomma provare a ricostruire insomma il significato di questa espressione e io ora darei la parola alla professoressa Nicoletta Parisi docente di diritto internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e ha una notevole esperienza proprio in questo settore sulla prevenzione e antiporruzione e so che il suo intervento diciamo ci consentirà ci farà tornare anche un po' al quadro giuridico internazionale al quadro giuridico insomma complessivo in questo settore che su cui stiamo insomma di cui stiamo considerando alcune problematiche orientamenti attuali e so che metterà un focus importante sulle questioni proprio di relative alla prevenzione e all'importanza come dire di valutazione dell'efficacia della conoscenza delle cause e delle modalità di diffusione della corruzione per poter intervenire grazie grazie Gianfranco della presentazione e grazie ai colleghi che mi hanno preceduto che ho ascoltato con molto piacere e come sempre dovrò tagliare alcuni punti per cercare di non essere troppo ripetitivo ma soprattutto saluto con grande piacere Giovanni Tartaglia Polcini col quale ho condiviso tanto lavoro sul tavolo interistituzionale del ministero degli esteri quando ero nel consiglio dell'autorità nazionale anticorruzione abbiamo fatto tante belle cose insieme come diceva il procuratore generale Giovanni Salvi l'evento accade in una settimana simbolica per questo argomento sono trascorsi in questi giorni 30 anni da Tangentopoli ma la questione non cessa di essere distringente attualità permane il suo carattere seriale diffuso nonostante l'azione potente della magistratura di quegli anni dal 92 al 94 è sempre una corruzione organizzata a partire dal solito tradizionale triangolo di ferro come viene chiamato in dottrina politica burocrazia interessi economici ma è profondamente mutata morfologicamente rispetto a 30 anni fa è mutato il peso e il ruolo degli attori che sono coinvolti interessantissimi studi che sono usciti in questi ultimi anni da quello di Sciarrone e Vannucci della Porta ci segnalano come il potere politico che allora era il motore che è stato il motore di quel fenomeno che poi abbiamo chiamato Tangentopoli da motore politico ad essere diventato strumento non più la centralità dei partiti e delle loro correnti ma una corruzione policentrica reticolare frammentata non meno pericolosa perché in realtà vede l'infiltrazione della criminalità organizzata e non che governa spesso le condotte reticolo e le reti politiche burocratiche professionali e criminali come ha detto Giovanni Salvi oggi ma come anche ha dichiarato qualche giorno fa la mafia ha abbandonato la violenza esercitata platealmente e rimane tante volte implicita l'ha abbandonata a favore di metodologie meno appariscenti ma più efficaci nell'attuale contesto e come aggiunge Don Ciotti presentando un rapporto molto interessante che è stato pubblicato dall'Espresso in questi giorni in parte una inchiesta con Demos che si intitola corruzione e la banalità del male prevale in questa epoca storica nella corruzione prevale la mafia imprenditoriale di basso profilo ma ben più potente perché è inserita nei gangli dell'economia quindi magari meno trasparente meno evidente e come diceva il procuratore generale sono tantissimi gli allarmi lanciati soprattutto in un momento storico politico così importante come quello del PNRR momento storico e politico importante che vede l'Unione Europea stanziare non solo con i PNRR nazionali ma con il quadro finanziario pluriennale e con altre azioni quali il Reacte U la bellezza di 2080 miliardi nell'arco di un periodo dal 2021 al 2027 e tanto per continuare nelle citazioni lo diceva Giovanni Falcone se segui il denaro trovi anche le condotte di corruzione e tanto è vero tanto è vero che su quel bonus fiscale di cui già ci parlavate voi oggi bonus fiscale per l'edilizia 38 miliardi stanziati oltre al miliardo che la procura di Roma che interessa la procura di Roma ci sono altri 3,4 miliardi di crediti inesistenti presso le altre procure italiane quindi vogliamo dire che i provvedimenti che sono stati adottati dal governo e dal Parlamento italiano sotto forma di decreto legge e poi completiti in legge per far fronte all'emergenza ci dicono che sono provvedimenti che potremmo dire per certi aspetti criminogeni che creano essi stessi corruzione per come sono scritti per come vengono applicati le norme sono tante come avete già detto voi il contesto internazionale è ricchissimo io vorrei dare una pennellata al contesto internazionale organizzando a sistema le fonti noi abbiamo un approccio olistico della comunità internazionale al contrasto alla corruzione che è olistico da due prospettive diverse anzitutto perché adesso con il modello importato dalla convenzione di merda del 2003 che l'Italia ha autorizzato la ratifica con la legge del 2009 la legge 116 e poi ha adempiuto con la legge 190 del 2012 la legge severino soprattutto per gli aspetti che riguardano la prevenzione che è il capitolo secondo molto importante della convenzione della Nazione Unita bene questa convenzione del 2003 unisce strumenti di prevenzione strumenti di repressione strumenti di law enforcement con una fitta rete di istituti di cooperazione internazionale quindi prende cerca di approcciarsi di contrastare la corruzione da tutte le varie dimensioni possibili ma è olistica anche da un'altra prospettiva perché richiede al singolo paese che tutte le forze attive del paese stesso siano messe in campo e quindi si rivolge alla pubblica amministrazione anzitutto alla pubblica amministrazione e agli apparati di giustizia e alle agenzie esecutive ma coinvolge soprattutto nel capitolo secondo anche la dimensione della società civile nella duplice dimensione in cui la società civile rileva tanto come singolo cittadino e cittadini nelle associazioni esponenziali di essi ma anche come attività di impresa non sono poche le norme della convenzione delle Nazioni Unite che si dirigono proprio all'attività di impresa pensiamo per esempio all'articolo 14 che si occupa di antiriciclaggio o pensiamo a quelle norme che prevedono la chiarezza dei bilanci la trasparenza nei bilanci sociali delle società e questo è uno strumento di carattere universale sono 187 più un'organizzazione regionale di integrazione dell'Unione Europea le parti contraenti a cui si affianca una prospettiva molto particolare perché si occupa di corruzione pubblica e alla quale si affianca con caratteristiche di complementarità la convenzione Ocse del 1997 già citata perché invece la convenzione Ocse si occupa anche di colpire la corruzione anche il lato del privato in quanto si dirige a contrastare la corruzione nelle grandi operazioni economiche internazionali quando si è convolto un ufficiale pubblico un pubblico ufficiale o di uno Stato parte contraente di un'organizzazione internazionale o di uno Stato anche non parte contraente il collegamento passa attraverso l'impresa se l'impresa nazionale si rende responsabile corruzione attiva non si occupa di corruzione passiva la convenzione Ocse se l'impresa di nazionalità di un paese parte contraente mette in campo una condotta di corruzione ecco che si scomoda la giurisdizione di quel paese nei confronti di quell'impresa e poi abbiamo i circuiti regionali africano del sud est asiatico dell'America latina e naturalmente anche europeo che è molto ricco perché vi è la dimensione Consiglio d'Europa e la dimensione Unione Europea Consiglio d'Europa che tra l'altro ha una stampella organica istituzionale molto forte nel greco e che ha le convenzioni internazionali del 99 di cui ci ha parlato Gianfranco e molte risoluzioni che approcciano il problema dalla prospettiva della prevenzione perché quello che emerge di recente dal 2003 in poi è la prospettiva della prevenzione nella consapevolezza che non essendo diminuita il tasso di corruzione che è rimasta diffusa seriale invasiva evidentemente i mezzi della repressione approntati dalle altre convenzioni internazionali non erano bastevoli e quindi si è aggiunta la legge della prevenzione e si è aggiunta anche un'altra prospettiva molto interessante che alcuni studiosi di scuole statunitensi hanno messo in lievo le convenzioni internazionali nel proprio preambolo dichiarano che gli stati stipulano quella convenzione perché sono consapevoli dei danni che sono determinati dalle condotte di corruzione che sono danni dicono questi preamboli non soltanto economici nel momento in cui altrano la concorrenza impediscono anche la crescita economica e la stabilità finanziaria di un paese ma questi preamboli portano l'attenzione soprattutto sulla stabilità delle istituzioni democratiche tanto interne quanto internazionali come a dire che la corruzione rompe il rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni e quindi introduce quel germe che poi fa nascere i populismi e comunque i movimenti eversivi e poi collega la corruzione alla violazione dei diritti dell'uomo e questa dimensione dicono alcuni studiosi di scuola americana costituzionalizza la strategia anticorruzione quando si parla dei diritti della persona siamo sul terreno privilegiato del diritto costituzionale e allora da qui nasce una corrente di pensiero che sostiene io non sono d'accordo ma mi piace dirlo perché bisogna ragionarci sull'evoluzione della prassi che sostiene che le condotte di corruzione di grande corruzione grand corruption non petty corruption sarebbero addirittura coperte da una norma di use cogens che in quanto la condotta di grand corruption costituirebbe un crimine contro l'umanità da qui l'esigenza sostenuta da questi stessi studiosi della creazione di una corte penale internazionale ovvero di una camera della corte penale internazionale già esistente che si occupi esclusivamente di corruzione come crimine contro l'umanità io non posso non posso essere d'accordo con questa impostazione perché la norma di use cogens è una norma normalmente di diritto non scritto che nasce quando vi è una doppia opinioni iuris come dice un maestro di diritto internazionale italiano che è stato benedetto con forti la convinzione che quel comportamento debba essere tenuto doverosamente per diritto che sia un obbligo giuridico e non una regola sociale o una regola morale o una regola etica e la convinzione che quella norma quel comportamento deve essere tenuto inderogabilmente che quella norma è inderogabile ora dal mio punto di vista questa seconda opinioni iuri se non si è consolidata nella comunità internazionale in questo momento e quindi io non mi spingerei fino a parlare di crimine contro l'umanità ma certo è una grave responsabilità dello Stato non contrastare efficacemente le condotte di corruzione e io scomoderei a questo punto l'articolo 3,2 della nostra Costituzione laddove dice che le istituzioni della Repubblica devono eliminare gli ostacoli che pregiudicano l'uguaglianza della persona e sono fonte di discriminazione gli ostacoli di ordine sociale giuridico eccetera eccetera ecco un'azione di contrasto alla corruzione non efficace rappresenta certo un ostacolo all'uguaglianza delle persone dichiarata dell'articolo 3,1 della Costituzione il sistema italiano riflette lo Stato del diritto internazionale molto bene ce lo dice la legge Severino l'articolo 1 sia al comma 1 che al comma 2 la legge esordice dicendo in adempimento delle convenzioni internazionali la convenzione UNCA che è la convenzione per il Consiglio d'Europa si adotta questa legge e si individua un'autorità nazionale l'anticorruzione ce lo dice l'articolo 322 bis del codice penale laddove è stato introdotto il reato di corruzione internazionale proprio per adempiere alla convenzione OX del 1997 ce lo dice tutto il sistema di compliance che fa capo al decreto legislativo 231 del 2001 che nasce dall'esigenza di adempiere a 5 convenzioni internazionali che contemplano l'obbligo per lo Stato di perseguire anche la persona giuridica coinvolta in condotte di corruzione l'articolo 13 della nostra Costituzione laddove dice la responsabilità penale è personale oggi deve essere letta alla luce di queste norme di queste disposizioni nel senso che implica una responsabilità della persona fisica e della persona giuridica certo il problema dell'effettività che voi avete toccato è un problema molto importante e molto grave e però vorrei dire il sistema di controllo internazionale del comportamento degli stati che è grandemente originale in tema di obblighi di contrasto alla corruzione lavora molto bene e lavora molto intensamente è un sistema di controllo sull'adempimento degli obblighi internazionali che è molto originale rispetto al sistema tradizionale della responsabilità per violazione degli obblighi internazionali perché è un sistema che non mira all'esatto adempimento dell'obbligo ma mira al conseguimento di un processo di avvicinamento all'adempimento degli obblighi convenzionali in questo consistono gli esercizi cosiddetti di valutazione prepari di peer review che si tengono tanto nel greco tanto nel working group on bribery dell'OXE quanto nel gruppo di lavoro per la verifica degli adempimenti che è nato nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite e è sintomatico come gli stati tendano a cercare di adempiere alle raccomandazioni contenute nei rapporti di peer review il che vuol dire che le organizzazioni internazionali esercitano una certa autorevolezza in materia vorrei toccare in questi pochi minuti che mi mancano il discorso della prevenzione quindi la prevenzione è la novità di questo nuovo millennio e lo è ed è stata adempiuta in tutti gli stati grazie alla messa in campo di strumenti di diritto amministrativo strumenti di diritto amministrativo che nella diciamo nella iconografia collettiva sono considerati motivo di costi di ritardi di vincoli che ne conseguono e che ritarderebbero l'azione di una pubblica amministrazione efficiente ed efficace se non ci fossero i controlli preventivi ma proprio la prassi di questi giorni ci dice che in realtà il controllo solo successivo non è non è efficace non è efficace perché non ripristina la situazione coante come si fa in una situazione come quella delle condotte di corruzione a ripristinare l'osservanza del diritto a favore delle vittime quando le vittime sono i cittadini quando la vittima è diffusa nella comunità nazionale in cui si riproducono condotte di corruzione come si fa per esempio a ripristinare il diritto quando in un ospedale alcune risorse sono dirottate invece che dalla cura delle persone affette da pandemia alle tasche di qualcuno a motivo di tangente su mascherine camici respiratori eccetera eccetera è chiaro che la prevenzione è necessaria e deve affiancare una repressione che sia efficace come ci dicono peraltro tutti i rapporti internazionali che si occupano di giustizia penale e la prevenzione tra l'altro pretende la misurazione della corruzione e qui vorrei chiudere introducendo il discorso che farà Giovanni e che ha già fatto parlando di Trocaderò perché è importante misurare la corruzione poi ci chiederemo che cosa misuriamo della corruzione e come lo misuriamo ma è importante per le istituzioni pubbliche porsi il problema della misurazione della corruzione per avere una rappresentazione affidabile della realtà per conoscere il nesso di causalità fra condotta di corruzione e situazione sociale economica e politica del contesto nazionale ma soprattutto dalla prospettiva di un'autorità di prevenzione della corruzione che è la prospettiva che ho utilizzato io nei miei sei anni di consiglio per capire come applicare con efficacia le misure di prevenzione ma anche quelle di repressione quindi in definitiva misurare la corruzione serve per stabilire le strategie e le politiche sia nazionali che internazionali da mettere in campo dalla prospettiva della prevenzione occorre conoscere come si sviluppano le condotte di corruzione quali ne sono le cause lo diceva Giovanni Salvi conoscere per deliberare non si possono adottare strategie politiche se non si conosce appieno il fenomeno le dinamiche che danno vita a queste condotte e dove queste si radicano non è importante dalla prospettiva della prevenzione sapere quanta corruzione esiste oltretutto come si fa a sapere quanta corruzione esiste quando la corruzione è un reato contratto in cui le parti le due o più parti non hanno alcun interesse a fare emergere il fatto di corruzione quando non vi è conflitto di interesse fra chi corrompe e chi corrotto quindi la cifra oscura della corruzione che è la parte dell'iceberg non emersa quella che non vediamo è inconoscibile e non misurabile è una cifra oscura dicono gli studiosi molto importante è inutile quantificarla non è utile fare dei rating internazionali di graduatorie per stabilire chi è buono chi non è buono invece è importante porsi il problema di dove nascono preferibilmente le condotte di corruzione perché lì può applicarsi tanto la vigilanza delle istituzioni nazionali internazionali quanto l'attività di regolazione sia di primo livello del Parlamento del Governo sia di secondo livello delle autorità di vigilanza per adottare per esempio linee guida banditipo capitolati che contengano clausole capaci di scoraggiare e di abbassare il rischio della corruzione quindi dalla prospettiva della prevenzione la corruzione è misurata da due diversi aspetti e qui il diritto internazionale ci aiuta è misurato il rischio di corruzione ed è misurata l'efficacia delle misure di abbassamento del rischio ovvero l'efficacia di quegli strumenti amministrativi della cui pesantezza ci si lamenta per capire se servono se devono essere abbandonati se devono essere migliorati se non servono del tutto la percezione e l'esperienza cioè gli indicatori esperienziali e di percezione possono servire per contribuire a dare una migliore rappresentazione della realtà ma non sono essi stessi dei misuratori della corruzione sono semmai dei misuratori della fiducia che i cittadini hanno nelle proprie istituzioni perché ci dicono che se le istituzioni sono corrotte il cittadino pensa di potersi poter utilizzare altri sistemi per raggiungere gli scopi che deve raggiungere per procurarsi una patente per raggiungere un medico rapidamente io mi fermo qui perché vedo che i miei 20 minuti a disposizione sono terminati e sono aperta a domande che vorrete fare per approfondire soprattutto quest'ultimo punto che ci porta a capire quali sono gli indicatori di rischio corruzione quali sono quelle bandierine rosse le red flags come dice l'OX e come dicono le Nazioni Unite che devono essere messi per esempio su certe procedure di affalto su certi snodi su certi anelli delle procedure per presidiarle meglio vi ringrazio dell'attenzione grazie anche questo diciamo è un intervento che è interessante in particolare ma non solo per gli internazionalisti per così dire perché ci sono state delle osservazioni anche delle proposte molto anche diciamo con una valenza tecnica rilevante io prima di passare la passare alla relazione di Giovanni Tattaglia Polcini che tra l'altro è un po' il cuore per certi aspetti della giornata proprio perché la passa a lui la passa a lui la parola vorrei dire fare solo due osservazioni sul vi dicevo che questa iniziativa nasce da una serie di conversazioni e nasce in realtà non aspetto che comunque vorrei che fosse incluso diciamo tra le tematiche che noi oggi affrontiamo nasce dalla curiosità di confrontarci su i risultati del G20 ma inizialmente diciamo era una mia curiosità i risultati del G20 per quel che riguarda il tema sviluppo sostenibile ambiente energia e come insomma voi come tutti sappiamo l'agenda 2000 l'agenda ONU sullo sviluppo sostenibile diciamo considera anche le questioni o in parte insomma le questioni di cui stiamo parlando menzionerei solo il goal 16 dell'agenda la necessità di ridurre in modo significativo la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme e poi naturalmente questo è articolato quindi l'abbiamo anche come una finalità importante nell'agenda ONU sullo sviluppo sostenibile e per curiosità devo dire prima di questo incontro sono andato a vedere il rapporto 2021 quindi l'ultimo del High Level Political Forum sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per vedere se in questo rapporto diciamo che è preparato predisposto dal segretario generale delle Nazioni Unite prima di questo forum annuale che è quello in cui poi si fa un po' il punto della situazione per quel che riguarda l'attuazione dell'agenda dell'agenda per l'ONU sullo sviluppo sostenibile beh se se diciamo in qualche modo veniva preso in considerazione il tema corruzione e si è preso in considerazione non devo dire non è dedicato molto spazio ma c'è qualche osservazione in realtà c'è qualche osservazione sul fatto che il fenomeno il fenomeno se lo vogliamo chiamare fenomeno appare di gravità enorme soprattutto nei paesi in via di sviluppo cioè ci sarebbe una differenza in questo senso ancora notevole diciamo tra la diffusione e la gravità del fenomeno corruzione nei paesi sviluppati e nei paesi in via di sviluppo detto ciò perché qui tenevo voglio dire pure sempre per collegare sempre su questa cosa che sempre se noi guardiamo al preambolo della convenzione Nazioni Unite sul sul tema e quindi diciamo guardiamo un attimo ai principi su cui si basa questo sistema olistico a cui faceva riferimento la professoressa Parisi prima noi abbiamo tra il primo prima linea forse addirittura il primo che gli stati parte alla convenzione diciamo sono preoccupati della gravità dei problemi posti dalla corruzione e dalla minaccia che essa costituisce per la stabilità e la sicurezza della società minando le istituzioni dei valori democratici i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo Stato di diritto quindi questo fatto tra l'altro del compromettendo lo sviluppo sostenibile lo abbiamo non in tutte le convenzioni che abbiamo considerato ma nel preambolo della convenzione delle Nazioni Unite c'è quindi fatta questa un attimo aperta questa finestra alla quale tenevo personalmente e ora darei la parola al consigliere Giovanni Tattaglia Polcini magistrato ben noto ha scritto molto sui temi tra l'altro che tratterà oggi diplomazia giuridica e contraste alla corruzione e consigliere giuridico presso gli esteri da anni ed è stato uno in prima linea insomma in questi anni in molte delle negozazioni italiane in ambito Nazioni Unite e recentemente voglio dire anche in ambito G20 in prima linea proprio su questo su questo tema su questo tema prego Giovanni grazie alla professore Damburelli grazie Gianfranco e io innanzitutto ringrazio per l'invito il cortese invito e approfitto per salutare il professor Marcelli il professor De Sena la professoressa Parisi e cara Nicoletta con la quale durante il periodo del comune percorso abbiamo anche composto più volte delegazioni per il nostro paese nei fori multilaterali e dico subito che la mia sarà una relazione di un giurista pratico quale io sono e prestato alle relazioni internazionali senza alcuna aspirazione dogmatica né diciamo di approccio dal punto di vista proprio dell'ortodossia di quelli che sono i canoni del diritto internazionale e però diciamo provo a trasmettere a condividere quella che è l'esperienza di questi anni di lavoro che a volte resta confinata nella conoscenza di coloro i quali hanno un interesse diretto come operatori pratici alla cooperazione internazionale multilaterale in materia di contrasto alla corruzione e forse vale la pena anche di affrontare con uno sguardo dal punto di vista dell'accademia l'Italia è in prima linea nelle attività internazionali di contrasto alla corruzione i nostri modelli normativi e operativi che guidano l'azione giudiziaria e amministrativa sono di grande interesse all'estero molto più di quanto non si creda in quest'ottica si sta sviluppando una vera e propria azione strutturata che noi definiamo di diplomazia giuridica per promuovere iniziative bilaterali e multilaterali a sostegno di un ambiente economico orientato alla legalità l'ambiente legalmente orientato in un ordinamento giuridico a molti livelli è esattamente quello che ha richiamato Gianfranco il quadro di riferimento nella parte preambolare della convenzione di merida delle Nazioni Unite e che coniuga e ci tornerò più volte nel corso dell'intervento da un lato un approccio valoriale al tema della prevenzione della ripressione della corruzione e dall'altro un approccio di tipo tecnico perché è necessario anche un approccio di tipo tecnico e restando sul piano valoriale mi piace condividere una definizione della corruzione in ottica di sviluppo sostenibile più volte abbiamo detto proprio come prospettiva italiana che per noi la corruzione è un furto di futuro è un furto di benessere per lo sviluppo sostenibile e il futuro delle generazioni che verranno corrotti e corruttori sono ladri di opportunità ladri di futuro fine principio del nostro esercizio è innanzitutto la tutela della reputazione del paese attraverso la riduzione di un oiato di una distanza che spesse volte si coglie tra la percezione all'estero e la realtà del nostro ordinamento giuridico e del nostro sistema economico nei quali i presidi anticorruzioni i presidi antimafia e anche antiriciclaggio sono solidi e io penso anche efficaci altro scopo non meno rilevante di questo complesso sforzo è proprio il contributo allo sviluppo di una rule of law globale che tenga conto però anche della nostra prospettiva perché in questo caso la prospettiva italiana nata sull'esperienza a volte anche triste che noi abbiamo vissuto può essere un termine di riferimento di assoluto valore la diplomazia giuridica può essere declinata attraverso due linee direttrici la prima linea direttrice è quella della armonizzazione minima dei quadri normativi nei fori multilaterali abbiamo ascoltato dalla professoressa Nicoletta Parisi una panoramica di questo primo termine di riferimento l'armonizzazione minima è un fine cui tendere e nel contempo un esercizio in continuo di venire l'altra linea direttrice che pure non è da trascurare è quella della necessaria assistenza tecnica della formazione internazionale in materia di giustizia e sicurezza per quanto riguarda l'attività dell'armonizzazione minima io personalmente ho partecipato a quelle che sono le attività del G7 del G20 delle Nazioni Unite e dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che ha sede a Parigi e di grande importanza in questo specifico settore e in quei gruppi di lavoro che elaborano principi generati di soft law e standard in materia anticorruzione l'Italia ha fatto sentire in modo crescente la sua voce l'attività ha invertito quello che noi potremmo definire uno storytelling sul nostro sistema giuridico ed economico troppo spesso costretto in passato su posizioni difensive per massimizzare queste sinergie interistituzionali e la necessità di un'unica voce da parte del nostro paese è stato istituito un tavolo di coordinamento anticorruzione in cui faceva riferimento la professoressa Parisi cui partecipano tutti i ministeri tutte le autorità e le agenzie competenti vi compresa naturalmente in prima posizione l'autorità nazionale anticorruzione i cui componenti che poi sono in realtà gli ispiratori di questo percorso approfitto per salutare e ringraziare per quanto riguarda la promozione invece dell'assistenza tecnica della formazione del rafforzamento istituzionale del rinnovamento dei quadri normativi farò cenno a questo nuovo capitolo dell'Italia nel mondo l'Italia è il modello di riferimento per la capacity building anticorruzione antimafia ed antiriciclaggio spesse volte non lo si dice abbastanza i nostri esperti sono i più richiesti al mondo non riusciamo a volte a rispondere in tempo e in modo efficace non per cattiva volontà ma per il numero di richieste che ci vengono rivolte di condivisione dei nostri modelli e delle nostre esperienze vedete come da un lato i valori e dall'altro la tecnica sono una combinazione di grande impatto per il successo di un'iniziativa composita che da una parte è sicuramente volta a tutelare l'immagine del paese però dall'altra può giovare a quella che è la ruota globale partiamo dalla metodologia in assistenza tecnica anticorruzione alla razio di questo capitolo della capacity building in un contesto come quello attuale la cooperazione giudiziaria di polizia per quanto efficiente e innegabile non è probabilmente più sufficiente la frammentazione geografica della criminalità organizzata le nuove forme più sofisticate dei delitti trasnazionali richiedono oggi un sistema preventivo e repressivo nel complesso più efficace i tradizionali accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria vengono resi spesso obsoleti ed inefficaci dal carattere trasnazionale di un crimine in continua evoluzione che invece richiederebbe accordi e schemi multilaterali di cooperazione a volte perfino in contrasto con la tradizionale concezione della domestic jurisdiction statuale la diplomazia giuridica in questi termini si pone come una precondizione che accompagna e rafforza la cooperazione giudiziaria di polizia consente un viaggio nello spazio e nel tempo verso migliori modelli istituzionali e normativi di riferimento infatti essa permette di traslare condividere esportare norme istituti modelli organizzativi e sistemi di valori nella misura in cui individua e studia le best practices diffusesi o affermatesi altrove essa consente di anticipare scenari come in un ipotetico viaggio nel tempo spesso avviene che modelli nazionali indicati o riconosciuti come termini di riferimento assurgano a standards nelle stedi multilaterali e attraverso meccanismi convenzionali finiscano per condizionare permeandola la legislazione nazionale di domani nella spiccata diversità degli ordinamenti giuridici ebbene lo posso dire con termini di riferimento oggettivi il nostro paese rappresenta su scala internazionale un modello osservato con rispetto ed interesse in grado di adeguare il proprio sistema laddove necessario alle mutevoli dinamiche della globalizzazione ma al contempo in grado di preservare ed offrire una qualità di una tradizione giuridica nazionale che è tra le più rilevanti in materia di rispetto effettivo dei principi dello Stato di diritto a quale metodologia faccio riferimento tenete presente che questa metodologia è stata censita come buona prassi a livello globale in sede G20 noi l'abbiamo declinata l'abbiamo offerta ai venti membri di questo foro globale per eccellenza che hanno considerato in un piano d'azione fin dal 2017 2018 che questo sia il modo migliore per condividere standard e modelli di riferimento in materia di prevenzione e repressione della corruzione questa metodologia si divide in quattro fasi innanzitutto la capacity building cioè la formazione professionale classica di magistrati e funzionali di polizia e anche di funzionale pubblica amministrazione coinvolti nell'attività di prevenzione in contrasto al maraffare la capacity building ha mostrato però la propria debolezza e in alcuni casi la inconsistente funzionalità a fronte di carenze che spesso si incontrano sul panorama globale di tipo istituzionale ed organizzativo ha perciò un ruolo distinto e si è affermata rispetto alla capability tradizionale la cosiddetta institutional o institution building capacity building e institution building vanno declinate insieme ebbene l'accompagnamento istituzionale sul piano organizzativo segna un passo in avanti rispetto alla metodologia tradizionale della capacity building ma ciò non basta perché spesso ci si trova di fronte a carenze che non attengono al profilo della formazione né tantomeno dell'organizzazione dell'istituzione ma finiscono per colpire i quadri normativi nel loro complesso i vuoti e i ritardi non possono essere colmati con altre attività che non siano di un vero e proprio law enforcement in questo caso potremmo definire questo terzo step di law building ma questi primi tre gradini della metodologia a cui facevo riferimento non sono sufficienti senza un quarto livello di intervento che è cross-cutting trasversale ed è rappresentato dalla value dissemination o consensus building non è possibile pensare di trasmettere le tecniche di capacity building institutional building e il quadro normativo senza una piena condivisione di valori questi quattro pilastri che inizialmente rappresentavano un cammino di alcuni programmi bilaterali finanziati dall'Italia sul decreto missioni sono divenuti la metodologia di azione in materia di capacity building internazionale di assistenza tecnica dell'Unione Europea che oggi costruisce programmi attraverso questi quattro pilastri tecnica e valori un altro grande risultato da condividere sul piano pratico della diplomazia giuridica è l'importanza della giurimetrica la professoressa Parisi Nicoletta ha parlato a lungo della misurazione della corruzione e non mi soffermo sugli argomenti già toccati se non con un termine di riferimento chiaro che anche se volessimo avere al tema della misurazione della corruzione un approccio di tipo dogmatico stavolta non potremmo che fare riferimento alle fonti la fonte di diritto internazionale in subietta materia è l'articolo 61 della convenzione di Merida della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione l'articolo 61 indica chiaramente che la strada per la comprensione della razio della misurazione della corruzione è proprio quella funzionale l'articolo 61 chiede di misurare la corruzione attraverso la raccolta l'interscambio e le analisi delle informazioni sulla corruzione al fine di comprenderne i trends dei singoli territori di ciascuno stato parte anche in considerazione delle circostanze che fanno da cornice alla commissione dei delitti di corruzione e lo scopo diglinato dall'articolo 61 non è solo epistemologico o di approfondimento scientifico culturale soggiunge l'articolo 61 che tutto questo sforzo serve a affinare le strategie di prevenzione e di contrasto e far circolare le buone prassi e non è un caso che l'articolo 61 sia inserito nel capitolo sesto della convenzione di merita che è dedicato alla capacity building vedete come tutto si tiene quel capitolo è dedicato alla capacity building e alla technical assistance cioè allo scambio di informazioni di lati e all'aiuto una delle più importanti considerazioni che possiamo fare sull'utilità della capacity building anche italiana in questo settore è che proprio attraverso l'assistenza tecnica internazionale si consente ai paesi di raggiungere quegli standard richiesti dalla convenzione di ridurre lo iato che spesse volte viene in un certo qual modo riconosciuto nel meccanismo di peer review che assiste le più importanti convenzioni internazionali di verifica dal punto di vista dell'aggancio di quelli che sono i standard di riferimento del paradosso di Trocadero vi ho detto non vi ho detto della sindrome del Botswana pensate che un anno siamo stati addirittura considerati al pari del Botswana dal punto di vista della percezione della corruzione non voglio approfondire ulteriormente un tema che ho più volte toccato però la verità storica a mio avviso è un'altra misurare la corruzione non serve a fare graduatori internazionali è un esercizio fuorbiante e in alcuni casi addirittura pericoloso perché allontana dalla realtà nessuno vuole negare che l'Italia sia un paese intriso dalla corruzione e addirittura nelle sue forme più avanzate che sono quelle infiltrative del crimine organizzato che attraverso la corruzione tende ad occupare la pubblica amministrazione e in alcuni casi anche ai più alti livelli quello che però non è più sostenibile anche alla luce dell'esperienza internazionale che questi fenomeni riguardino solo un paese o solo il nostro paese giungo alla conclusione di questa breve relazione con una prospettiva sul lavoro che il G20 ha svolto sotto la nostra presidenza nel 2021 anche per rispondere alla richiesta specifica che il professor Tamburrelli che ringrazio mi ha fatto anche di condividere quello che si è fatto quando abbiamo avuto la possibilità di scrivere l'agenda di un foro non solo quando abbiamo partecipato a un foro dando idee su agende scritte da altri ebbene possiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto nel 2021 nel settore anticorruzione in un G20 che ha avuto difficoltà in alcuni settori come quello ad esempio del cambiamento climatico e energetico possiamo dire che in questo settore il multilateralismo si è dimostrato efficace efficiente non è facile mettere d'accordo 20 paesi che hanno nella constituency delle posizioni di partenza totalmente diverse come tutti sanno nel G20 esistono schieramenti distinti abbiamo la maggior parte dei paesi che vengono definiti like minded che hanno degli standard di riferimento comuni e altri paesi che invece si iscrivono ad un diverso modo di approcciare le tematiche della globalizzazione l'Italia ha dedicato particolare attenzione al tema della corruzione riaffermandone un ruolo centrale nell'agenda globale per richiamare per richiamare quanto detto al professor Damburrelli l'obiettivo 16 dei 17 dell'agenda dello sviluppo sostenibile che è quello dedicato alla giustizia e alla sicurezza e che declina la prevenzione e la repressione della corruzione appunto come termini di riferimento è l'unico considerato cross-cutting trasversale cioè si dice non è possibile raggiungere nessuno degli altri obiettivi se non comunque attraverso questo obiettivo numero 16 i documenti approvati dall'anti-corruption working group sono carichi di portata ambiziosa innovativa e trasformatrice di tutte le strategie delle politiche e delle azioni in questo settore cardine di un multilateralismo efficiente sono stati approvati ben sei documenti tecnici tre sette di principi di alto livello un action plan triennale un accountability report per il 2021 e un compendio delle buone prassi in materia di misurazione della corruzione destinato a rompere gli schemi di un approccio esclusivamente percettivo partiamo da una panoramica sintetica degli high level principles come vi ho detto valori e tecnica tutela della riputazione del paese prospettiva italiana ma assolutamente alcuna volontà di nascondere quelli che sono i fenomeni pericolosi che rappresentano un freno allo sviluppo sostenibile è il primo dei documenti che abbiamo fatto approvare dai venti è un documento di altri principi sulla corruzione collegata al crimine organizzato un documento politico che è coerente con una visione olistica della corruzione con la volontà di perseguire e prevenire efficacemente le nuove e le più sofisticate forme di manifestazione di una delinquenza corruttiva che è divenuta strumento di infiltrazione e organizzazioni criminali nell'economia e nell'amministrazione pubblica quando abbiamo iniziato il negoziato su questo documento la membership del G20 ha risposto freddamente in modo addirittura come posso dire oppositivo quasi che questo tipo di modalità di manifestazione della corruzione fosse un fenomeno tipicamente italiano a fronte di una serie di termini di riferimento globali di esempi e anche di un dibattito acceso siamo riusciti a far riconoscere la globalità di questo fenomeno e non è una cosa di poco conto pensate per fare un esempio a quello che può essere un possibile risvolto pratico di questo primo documento l'Unione Europea è il membro effettivo del G20 il G20 ha 19 paesi membri effettivi più l'Unione Europea l'Unione Europea non ha una direttiva antimafia non ha mai adottato uno strumento come una direttiva anticorruzione scopo ultimo di quel documento per chi lo ha presentato lo ha scritto e lo ha negoziato è quello di spingere l'Unione Europea ad una riflessione su una necessità di un quadro normativo di secondo livello in queste materie abbiamo anche ottenuto l'approvazione di un documento per il contrasto alla corruzione nello sport abbiamo profuso particolari sforzi in questo settore nelle ultime due conferenze di vista di parte della Convenzione di Merida poiché riteniamo che lo sport dal punto di vista economico e sociale rappresenti la nuova frontiera della corruzione a volte non considerata adeguatamente per un malcelato eccessivo principio di autonomia che non deve mai corrispondere a impunità di grande impatto è anche il terzo set di altri principi dedicato proprio alla prevenzione e dalla lotta alla corruzione nelle situazioni di emergenze con un focus precipo alla fase di recovery per garantire adeguati livelli di integrità e trasparenza negli appalti e nelle procedure per la ricostruzione e questo è un altro documento del quale andare fieri che noi stessi noi italiani abbiamo presentato vado alle conclusioni proprio effettive e finali nell'epoca dello sviluppo sostenibile degli sforzi comuni per la creazione di un level playing field globale della lotta ai paradisi normativi e della promozione di un'armonizzazione minima dei sistemi giuridici penali la presidenza italiana ha operato in un modo sicuro e forte ottenendo un riposizionamento del paese sullo scenario globale in questo settore consolidando quella inversione della narrativa dello storytelling sull'Italia e la corruzione sostengo e dico con uno slogan che l'Italia è sicuramente il paese della mafia più antica e pericolosa del mondo così come della corruzione più sofisticata ma è anche il paese dell'antimafia più robusta del mondo ed anche il paese dell'anticorruzione che fa da modello non solo per i paesi in via di sviluppo ma addirittura per i nostri vicini faccio riferimento in particolare alla legge Sapende in relazione a quella che è stata la nostra attività di istituzione di un'autorità nazionale anticorruzione indipendente dal potere esecutivo la prospettiva italiana della rule of law affermatasi nel G20 potrà certamente generare ricadute positive per il paese sullo scenario globale e tutto questo sicuramente avrà la necessità di un supporto e di un sostegno da parte dell'accademia da parte di coloro i quali sono chiamati a studiare i principi e a illustrare le regole perché no per creare anche una classe di giuristi prestati al multilateralismo anticorruzione nel futuro attraverso percorsi non solo pragmatici come quello che io ho in questo momento in corso ma accademici e anche di corso di studi vi ringrazio tutti per la pazienza e l'attenzione e mi consiglio naturalmente alle vostre domande grazie grazie davvero intervento anche questo così interessante non invidio il professor De Sena per le sue osservazioni finali perché ci sono state tanti di quegli insomma di quegli spunti in questi interventi che veramente insomma tra l'altro non stiamo non stiamo non abbiamo modo in realtà di 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 aprire un confronto su tante cose insomma su cui magari possiamo anche avere delle opinioni non proprio corrispondenti e io devo dire apprezzo molto anche la positività del consigliere Tartaglia Puccini che è sempre molta energia e molta positività in questo in questa attività che fa insomma sia sul piano così generale dell'affermazione di questo concetto e poi come dire della messa in opera di questa diplomazia giuridica insomma questa collaborazione con gli esteri forte e sia diciamo per quello che poi effettivamente insomma l'Italia in questi anni ha fatto sia in ambito Nazioni Unite sia in ambito G20 insomma su questo su questo su questo tema e rispetto al suo intervento io mi sembra utile non so se riesco a condividere un attimo lo schermo ci provo ecco se la vedete diciamo mi pare che lui abbia lamentato diciamo anche il fatto che l'Unione Europea non abbia ancora utilizzato la possibilità che gli è data che gli è data dall'attattato dell'articolo 83 attuale in base al quale il Parlamento Europeo e il Consiglio deliberando mediante direttive possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle esenzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione trasnazionale e tra queste aree appunto terrorismo tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori traffico illecito di stupefacenti traffico illecito di armi riciclaggio di denaro corruzione contraffazione di mezzi vagamente e così via e allora ora interrompo la condivisione se ha funzionato e così diciamo abbiamo ulteriormente anche per chi segue insomma magari dato una un quadro di una visione di insieme insomma della normativa internazionale europea rilevante e io ora prima di dare la parola a Sordesena devo dire ho ricevuto non è non ha potuto partecipare all'incontro l'avvocato generale del l'avvocato generale presso la corte di Cassazione Pasquale Fimiani che è un magistrato insomma di grandissimo di grandissimo livello che si è occupato sia di questo sia di questi temi ha poi scritto anche devo dire molto però ho ricevuto da lui un contributo che mi sono permesso di riversare in alcune slide e se me lo consentite condividerei di nuovo lo schermo e vi mostrerei queste slide perché sono parlano quasi da sole quindi io cercherò semplicemente di quasi di leggerle nel senso è una sintesi molto secondo me molto efficace che aveva predisposto e mi sembra utile provare a utilizzarla un attimo solo per individuarle scusate vi ho fatto vedere molte cose ma la mia intenzione è arrivare solo a questo se lo schermo è condiviso potete darmi un riscontro sì allora il suo intervento era sulla compliance aziendale quale strumento di prevenzione della della corruzione e da intendersi per compliance aziendale la capacità dell'impresa di auto organizzarsi no con 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 disponendo delle procedure corretta in proposito e volta rispetto delle norme e in questo lui muoveva sempre dal quadro dal quadro comune insomma che abbiamo fatto riferimento dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione anche insomma dall'esito del del G20 2021 che si è concluso come sappiamo ottobre novembre dello scorso anno e da qui insomma alcune riflessioni anche una parte propositiva il riferimento per quel che riguarda la convenzione delle Nazioni Unite è a due articoli in particolare che sono il 12 e il 13 il primo diciamo oltre all'aspetto sanzionatorio si focalizza sul tema della compliance proprio come strumento di prevenzione della corruzione il secondo è sulla trasparenza della pubblica amministrazione e la informazione e la partecipazione del settore privato quali punti fondamentali per la prevenzione della corruzione ora queste prospettive cioè le prospettive poste aperte dagli articoli 12 e 13 della convenzione ONU si ritrova nei punti 57 e 58 della dichiarazione finale a cui faceva cenno il consigliere di partaglia Polcini adottata appunto dal G20 e devo dire che Fibiani aveva fatto anche un lavoro di analisi attenta per vedere in quali atti adottati dal G20 avessero in qualche modo ripreso queste temati e li aveva individuati come vedete prendendo in considerazione sia il piano triennale di azione 2022-2024 adottato dal G20 sia i high level principles corruption and organized crime e ancora l'accountability report in particolare per quel che riguarda i high level principles aveva sottolineato diciamo come sia presente nel principio 2 il tema della partecipazione della società civile quale punto fondamentale nella lotta alla corruzione e questo sempre in corrispondenza all'articolo 13 della convenzione della convenzione ONU quindi da questo Fimiani passa a un analisi diciamo molto precisa ed essenziale il compendium sulle buone prassi che è sempre uno degli atti di cui ora disponiamo a seguito del G20 prevede alcuni indicatori specifici per la misurazione della corruzione abbiamo i dati dell'indagine i dati amministrativi quindi sia la risposta del sistema della giustizia penale sia i rischi di corruzione opinioni e i giudizi di esperti e analisi condotte su big data e gli indici compositi sulla corruzione ora la compliance di cui su cui lui si sofferma rientra tra gli elementi da tenere presente con riguardo al punto 2 in particolare ai rischi di corruzione quali sono questi dati per chi diciamo è una del tre lavori magari non è mi sembra utile comunque seguire diciamo questo questa opportuna sintesi si basano su importanti registri pubblici come i dati sugli appalti sulle teorietà effettiva sulle sanzioni amministrative le dichiarazioni patrimoniali gli odet interni ed esterni costi standard e Fignani nota anche come l'Ox abbia più volte sottolineato il fatto che la valutazione del rischio basata sui sui dati e sulle capacità di analisi permette il miglioramento della governance dei dati nelle situazioni di gestione del rischio e in particolare del rischio in caso di progetti infrastrutturali su larga scala naturalmente questo è un tema di grandissima attualità oggi in Italia dato il flusso di finanziamenti che ci troviamo a gestire e la specificità dei problemi connessi alla realizzazione di progetti infrastrutturali su larga scala e ora andando avanti qui c'è la parte diciamo di osservazioni anche critiche di Fimiani molto interessanti a suo avviso i documenti approvati dal G20 e da Guida Italiana definiscono il tema ma non indicano specifiche modalità attuative della valorizzazione della compliance quale strumento di prevenzione della corruzione quindi primo punto molto ben posto direi e Fimiani dell'opinione credo indivisibile che è un'efficace collaborazione a tal fine dovrebbe prevedere la condivisione di criteri uniformi di riferimento il cui rispetto da parte delle aziende dovrebbe poter essere verificabile in modo oggettivo e fatta questa osservazione suggerimenti anche diciamo questa chiara notazione sulla direzione sull'indicazione di direzione e osserva come alcuni spunti interessanti vengano dai sistemi ISO attualmente in 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 uso e in particolare dall'ISO 37001 Antibribery Management Systems la quale identifica uno standard di gestione per aiutare le organizzazioni nella lotta contro la corruzione istituendo una cultura di integrità trasparenza e conformità e noi credo si conosce che cos'è l'ISO qual è il valore dell'ISO nella realtà imprenditoriale anche italiana Fimiani ci analizza diciamo considera quello quelle che sono le disposizioni del questa ISO 37001 e che affronta diversi diversi punti con la corruzione nel settore pubblico privato e senza finire di lucro corruzione da parte dell'organizzazione e così via e anche qui poi abbiamo diciamo i limiti l'indicazione dei limiti della valorizzazione di questa ISO e del ricorso a questa ISO 37001 e nel senso che si tratta di standard applicabili solo alla corruzione quindi non affrontano non affronta specificamente altri diciamo altri possibili connessi cioè non affronta il problema delle frodi o del riciclaggio di denaro per esempio e si tratta di requisiti che sono stati adottati in modo da poter essere applicati a tutte le organizzazioni indipendentemente dal tipo dimensione naturale ed attività sia nel settore pubblico nel settore privato e nel cosiddetto terzo settore quindi utilità e limiti del ricorso agli standard ISO e poi l'osservazione anche questo insomma molto molto puntuale l'adozione di tale sistema di qualità o altro equivalente ben potrebbe costituire un primo livello certo di rispetto di standards di compliance anticorruzione adeguati e rappresentare una base di riferimento per l'individuazione di indicatori specifici del livello di corruzione poi continua sarebbe un elemento che potrebbe concorrere al migliore funzionamento degli indicatori fondati su analisi condotte sui big data mi sembra veramente molto interessante questo contributo che ci ha fornito l'avvocato generale Pasquale e spero diciamo che l'averlo tradotto in slide l'abbia reso veramente insomma leggibile come dire non solo a noi relatori ma a chi ci sta seguendo su youtube ha portato diciamo indirettamente questo contributo io direi che siamo ora aspetta il professor Pasquale De Sena che non solo è il presidente che è il professore è presso l'università di diritto internazionale presso l'università di Palermo ed è segretario è il presidente della società italiana per i diritti internazionali e il diritto dell'Unione europea grande esperienza consolidata direi da anni in particolare tra i suoi vari incarichi e settori insomma ricorderei che è membro permanente del comitato per i diritti dell'uomo dell'uomo sul design del mae e lascerei a lui la intanto lo ringrazio veramente perché è tra i primi con i quali abbiamo come dire ragionato su una possibile su questa possibile iniziativa lo ringrazio per la presenza so che era impegnatissimo e gli lascio comunque questo invece arduo compito delle osservazioni conclusive di questa di questo nostro incontro grazie a te Gianfranco grazie a tutti voi dell'occasione che mi fornite per fare qualche considerazione da ignorante perché io non sono un insider del tema della della corruzione e quindi non posso che come dire cercare di trarre qualche considerazione di carattere generale necessariamente poco provveduta sul sul piano tecnico però mi sembra devo dire che da questo incontro così ricco si possano trarre diciamo dei si possono individuare in questo incontro si possono individuare dei figli e si possano trarre delle conclusioni le più problematiche che che certe quindi più meno conclusioni ma più considerazioni problematiche allora a me sembra volendo tracciare una sintesi come dire fatta tramite l'utilizzazione delle categorie generali dei diritti internazionali che sul piano del del metodo no? si confrontino in questa materia due fondamentali indirizzi se ho ben capito del quale l'uno mi sembra carteggiato dai tecnici che a me premetto sembra più concluo quali sono senz'altro la professoressa Parisi e il dottor Tattaglia Polcini ma anche naturalmente il dottor Fimiani nonché diciamo sia pure tra le righe il proprietario generale Sarpi che è quella della sottolineatura della esigenza di strumenti di prevenzione e quindi lo spostamento sul piano del controllo particolarmente del controllo preventivo delle tecniche normative internazionali e la esigenza dell'accepazione di questo controllo opportunamente la professoressa Parisi ha messo in rilievo come questo indirizzo che si coglie lungo tutto potremmo dire l'arco degli strumenti che sono stati citati tenda ad essere prevalente presenti elementi di originalità rispetto alle tecniche classiche diciamo di fronteggiamento da parte internazionale delle sue violazioni a me sembra molto interessante mi sembra che sia riconducibile a questa categoria generale tanto quello che ha detto la professoressa Parisi che ha sottolineato molto bene secondo me gli aspetti essenziali della tecnica del peer review cosa che io francamente non conoscevo tanto quello che ci ha detto il consigliere Tartaglia Polcini quando ha messo l'accento sui due pilastri diciamo dell'assistenza tecnica che sono addirittura forse come dire anteriori rispetto al controllo siamo proprio nel campo della prevenzione in senso puro non tanto del controllo preventivo tanto direi quanto sarebbe emerso dall'intervento del dottor Fimiani e perché già la scelta dell'argomento cioè quello della compliance aziendale e poi le considerazioni critiche che nel contesto di questo intervento probabilmente sarebbero state rivolte considerazioni che emergono dalla sottolineatura della insufficienza di questo approccio ma poi anche dell'insufficienza del riferimento agli standard di ISO pensate alla questione della non attitudine di questi standards a ricomprendere comportamenti di diciamo che potremmo definire circostanziali rispetto alla produzione o comunque di genere se volete minore ma di notevole significato tutto questo a me mi trova molto concorde mentre non mi trovo assolutamente concorde l'approccio diciamo statunitense che pure la professoressa Parisi ha fatto riferimento non solo direi per le considerazioni assai congure e da lei sviluppata ma anche per una questione di altro cioè voi immaginate la istituzione di una camera della corte penale internazionale con competenza riferimento a crimi contro l'umanità costituiti da episodi di grande corruzione iniziamo innanzitutto a immaginare chi degli stati come dire darebbe il proprio assenso a una revisione dello Stato di Roma in questa direzione a partire naturalmente scusatemi questa sottolineatura dagli stati occidentali e quindi diciamo mi sembrano queste invece considerazioni francamente più realistiche tutto questo tutto questo movimento diciamo di normativo però si scontra con dei dati di realtà mi sembra di poterli questi dati in realtà emergono per esempio dalle considerazioni che io scorreremo prima velocemente che fanno da premessa a rapporto 2021 di transparzi le quali osservazioni vanno nel senso di sottolineare che la situazione dal punto di vista della corruzione internazionale non è molto migliorata al di là diciamo della distribuzione negli indici di percezione della corruzione a cui traspanzi si dà e che naturalmente riguardano i simboli paesi ma guardando diciamo nel suo complesso la situazione non sembra molto migliorata attenzione malgrado il quadro oramai diciamo fittissimo di norme internazionali ma anche di procedimenti di garanzia del rispetto di queste norme siano essi questi procedimenti di tipo preventivo siano essi invece di tipo successivo per così dire quindi a carattere preventivo dunque per chi voglia guardare a questo fenomeno ovviamente non con esclusivo riferimento alla realtà italiana o altre realtà la diciamo domanda che si pone che emerge spontaneamente ma quanto tutto questo è effettivamente utile a contrastare la corruzione quanto invece insomma questo fenomeno proprio per il rilievo che ha assunto proprio per la sua pervasività oggi da me l'intenzione di volerne sminuire l'importanza non debba essere visto diciamo in una prospettiva anche più ampia in questa in questa direzione a me mi hanno colpito tantissimo ancora una volta le osservazioni che a me sembrano convergenti dei relatori e cioè l'accento messo dal procuratore Saldi sulla rilevanza di una serie di comportamenti che nelle specie classiche della corruzione non rientrano ma che fanno ad essere dal contorno l'accento l'accento anch'esso molto chiaro posto dalla professoressa Parisi sul cambiamento direi peggio per certi aspetti dei modelli corruttivi nel quadro della realtà italiana nella prospettiva di questo reticolo di comportamenti corruttivi che sono tra di loro imprecciati e che non consentono neanche più diciamo una distinzione chiarissima di ruoli in altri termini l'incistamento della corruzione e dei comportamenti che di essa costituiscono il contorno cui pure Saldi faceva riferimento nella stessa attività economica direi ed è qui la giusta sottolineatura anche delle esigenze di andare a vedere ma anche la difficoltà di andare a vedere dove nascono le prodotte corruttive questa è la vera la vera questione diciamo bene tutte queste osservazioni diciamo cospirano per chi come me diciamo sia un po' ma sai io mi ha discolto il fatto di aver detto a Gianfranco più volte che io ero una persona forse non del tutto adatta stare qui sarebbe stato il giusto sacerdote qualcuno qualsiasi dei nostri colleghi che come Nicoletta Parisi si sono occupati questi ma insomma io cerco di dare un contributo vedete e qui vengo a quello che ci ha sottolineato ci ha sottolineato sia Gianfranco Tamburelli che Fagano C'è in apertura e cioè la necessità Gianfranco l'ha fatto citando il punto 16 dei punti dell'agenda globale delle Nazioni Unite Fabio ha fatto i termini più generali e consoni al carattere introduttivo del suo intervento il collegamento la connessione indietnibile che c'era questo gigantesco problema altri giganteschi problemi della comunità internazionale in questo momento storico Gianfranco citava del documento dei punti dell'agenda per lo sviluppo sostenibile in modo direi chirurgico l'accento posto nel punto 16 sui paesi in pianismo di sviluppo e sull'allunno ora quali sono diciamo per così dire i riflessi di questi due punti questi due punti sono i due riflessi che costituiscono due problemi giganteschi di questo momento storico che si ricollegano strettamente al tema centrale della comunità se infatti andiamo a vedere oltre il punto 16 l'agenda sostenibile se uno come me che da parte è un profano va a vedere la parte finale dell'indice corruttivo del 2021 del trasparenza cosa ci trova ci trova esattamente questo ci trova che nella cona sono presenti per paesi in quali siano caratterizzati da tasse di disuguaglianza molto pronuncianti rispetto agli altri e paesi nei quali paesi nei quali il concetto di rullo è più o meno familiare come può esserlo un profumo di Dior o forse anche meno considerati gli aeroporti che abbiamo diciamo e quindi la diffusione di centri commerciali qui mi ha anche colpito moltissimo io naturalmente diciamo non mi do allo sport preferito dei più cioè quello di come dire giocare a fare il soggetto di governo però devo dire che mi ha colpito tantissimo quanto ha detto ancora una volta il dottor Tartaglia-Puccini quando in coda al suo al suo la sua descrizione diciamo del pilastro del secondo pilastro della diplomazia giuridica in coda ma sottolineandolo come elemento ineludibile ha fatto riferimento alla diffusione di valori perché io sono perfettamente consapevole che questo è un elemento se volete circostanziale ma cosa può fare oggi diciamo uno di noi il consigliere Tartaglia con il stesso a Parisi un operatore che non si occupi di disuguaglianza o di stato di diritto che non si occupi della tragica situazione in cui si trova quella parte di mondo in cui viviamo tanto riguardo al primo di questi problemi quanto al secondo lo stesso pezzettino dell'indice di trasparenza lo stesso pezzettino introduttivo dell'indice di trasparenza fa opportunamente secondo me molto opportunamente riferimento alla circostanza che chi come me si occupa un po' di questi temi lo stato di diritto ma soprattutto il rispetto ai diritti umani fondamentali si è inviso ovunque e da questo punto di vista la situazione che si è generata nel corso della pandemia anche un accidente certo non ha contribuito diciamocelo francamente a come dire influire positivamente su questa crisi quindi e mi ha colpito questo come dire accenno ai valori perché vedete io sono sempre stato molto scettico sulla prospettiva dell'imposizione a livello macro strutturale dei valori della democrazia e dei diritti umani eccetera cioè quella insieme di problemi che si riconosceva negli anni 90 ma direi soprattutto negli anni 2000 alla tematica dell'intervento umanitario di diritto internazionale ovvero alla nozione di esportazione della democrazia e dei diritti umani fondamentali vista in termini giudici però qui quello è il livello macro strutturale se vogliamo questo è un livello micro strutturale molecolare quello che la diplomazia giuridica fatta da operatori che non hanno solo come dire una capacità di ordine tecnico ma anche una sensibilità politica istituzionale come quella dell'approccio di molto certo ecco questo mi sembra di estrema importanza fa pensare mi sembra insomma è qualcosa che fa pensare tanto anche lo stesso dottor Fignani ricordate nella ultima slide proiettata da Giancarlo giustamente che cosa ci fa rilevare ci fa rilevare che l'ISO è uno standard d'ISO preso in considerazione che costituisce un plus rispetto ai risultati piuttosto diciamo magari su quel punto specifico del G20 ricoprende una serie di lascia fuori una serie di comportamenti che oggi costituiscono la sostanza diciamo perlomeno degli aspetti circostanziali della produzione ma anche i dipendenti rispetto al esempio se noi guardiamo i rapporti che l'Anac in Italia ha rilasciato vediamo che l'Anac si è occupata di tutto fino al punto di essere tacciata di andare anche al di là ma questo è in qualche modo naturale siamo di fronte a problemi cosa può fare un operatore giudico non è che possa fare tantissimo di fronte a questioni come la disuguaglianza e lo Stato di diritto o la crisi del rispetto dei diritti di mani fondamentali che secondo me sono anche come dire stanno anche soggiacciono no alla problematica della corruzione sono solo davanti sono la corruzione che mette in pericolo questo ma questo potrà accadere tutto sommato un tantino nell'Occidente europeo e altrove ma non certo diciamo nella gran parte dei paesi della comunità internazionale dove questo dove l'indice di produzione è altissimo e dove evidentemente si ricollega a realtà ben diverse qui per quanto piccolo per quanto diciamo se volete appunto inane rispetto a questi obiettivi l'accento sull'attività paziente costante e profonda di diffusione di certi valori non con l'intento di rascalico di massa ma come dire nell'operare concreto degli operatori del diritto che agiscono di concetto con la diplomazia mi sembra di estremo rilievo e se permettete una delle note più rilevanti di questo nostro incontro sul piano delle prospettive propositive ripeto io sono un pessimista sul piano diciamo del tema in questo di incrociare un pochino anche la sensibilità di Fabio Mancelli e anche quella di Gianfranco Tamburelli ma tutto sommato dobbiamo chiederci ciò che noi possiamo fare diciamo come 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 operatori giuridici diciamo nei diversi livelli in cui in cui operiamo io non ho molto da aggiungere come vedete tutto sommato e come sempre le mie considerazioni sono più problematiche l'ho anticipato e conclusive se non un ulteriore ringraziamento di cui mi sono dimenticato prima a Gianfranco e a tutti gli intervenuti perché hanno dato modo in estrema semplicità ma con una grande profusione di competenza tecnica e con molto understatement e modestia di animare un'occasione come questa che spero possa essere anche un po' prototipica rispetto all'intervento della Sidi su temi che è vero magari non investono diciamo i grandi capitoli dell'ordinamento internazionale ma contribuiscono a far sentire diciamo la rilevanza dell'ottica anche giuridica internazionalistica in relazione a questioni che sono vivissime nel nel dibattito e quindi sono grato da Gianfranco e a tutti i partecipanti se mi consentite anche a nome del direttivo della Sidi per aver animato dato corpo a questa nostra occasione di incontro non molto di più essendo un profano diciamo un portoghese in qualche modo grazie credo siano state delle osservazioni conclusive non solo insomma come dire essenziali ma anche brillanti devo dire l'avere individuato alcuni insomma alcune problematiche su cui si è focalizzata la nostra attenzione ti ringrazio anche per la per la solidarietà sul pessimismo nel senso che effettivamente diciamo io non a caso sottolineavo l'ottimismo di Giovanni Tartagliapolcini che che giova che giova ma io spero non non risultano ora da chi segue su YouTube delle osservazioni domande considerando che siamo andati anche oltre devo dire un po' i tempi previsti io se meno che diciamo voi non vogliate fare qualche osservazione ulteriore andrei veramente alla conclusione al saluto mi fa molto piacere il fatto che questa sia stata anche un'opportunità appunto di collaborazione di dialogo tra il mio istituto anche se non sono diciamo al momento in istituto ma sono altrove istituto di giuridia internazionale l'asili e poi come dire il coinvolgimento della procura generale della Cassazione il coinvolgimento di altre altre università il coinvolgimento della come dire del consigliere giuridico del del MAE su queste su queste cose quindi spero diciamo che effettivamente questo possa essere un come dire un precedente per l'avvio di eventuali diciamo ulteriori analisi approfondimenti anche su questo ma anche su altri temi connessi quindi vi ringrazio di nuovo tutti davvero è stato molto interessante per me ero il primo uditore di questa di questa iniziativa e vi vi saluto vi auguro buona serata e alla prossima grazie mille arrivederci a tutti grazie arrivederci grazie grazie mille grazie mille Grazie a tutti.